Buona a tutti ragazzi, sono Scilbi, benvenuti in questo nuovissimo video post partita di Fiorentina-Lazio fin da 1 a 1 e a me mi rode, mi rode perché come sempre non siamo in grado di chiudere una dannatissima partita non gliela potremo fare, non se può, primo tempo dominato, dominato, non so dovevamo stare, almeno 2 a 0 il primo tempo almeno non riusciamo a segnare, cioè Immobile ha fatto un gol bellissimo, abbiamo giocato bene, abbiamo avuto un sacco di occasioni però regà la partita la vinci, quando la palla la fai entrare, non quando giochi bene, noi abbiamo giocato bene noi meritavamo di vincere, meritavamo di vincere perché primo tempo abbiamo giocato solo noi secondo tempo la Fiorentina si risvegliava un po' come era normale, però hanno fatto un Cristo di tiro in porto ovviamente un dannatissimo tiro in porta che entra, mi pare valese e poi Radu che cavolo, che cazzo l'ho fatto al gol, si è fatto superare la Miraias come una pedina veramente? Cristo! poi c'è sta Correa che mi gioca bene, Correa mi gioca bene, il primo tempo, il secondo tempo sparisce ti fa prova fatte quelle finte che non va, non funzionano, non funzionano non passa la palla, passate questa palla, pure Immobile, all'ultimo non si passavano più la palla vi dovete passare la palla, il primo tempo l'abbiamo giocato bene perché facciamo tutti i passaggetti di chitarra passatevi questa dannatissima palla, perché non ve la passate, che nervoso poi Inzaghi all'ultimo fa intrabastos, capisco che si è fatto male Radu ma metti, non lo so, metti Keisedu, metti Romulo dietro, cioè prova a vincere la sta partita perché un punto è inutile, non ci fai niente con un punto cioè non ci fai niente, né noi nella Fiorentina ci facciamo nulla con sto Cristo di punto, niente, è inutile, tra 1 e 0 punti, è inutile, almeno ci provi vi giuro, a me merode perché, perché dici vabbè, abbiamo giocato male no, abbiamo giocato bene, però la palla la devi, la devi far entrare in porta Cristo, poi regà, oh perché continua a giocare male che oggi alla fine, al primo tempo non si è visto, meno male al secondo tempo, verso la fine si è pure un po' aggasato ha pure fatto qualcosa Patrick, Patrick, a me parete ogni volta come tu guardava come tu giocava, vabbè al primo tempo ha trovato toccato 4 palloni, ha sbagliato i 5, non lo so però, niente, cioè, che palle che palle, che grandissime palle era fondamentale portare a casa questi 3 punti era fondamentale perché, perché mu vai, devi giocare col Parma e non c'è neanche Immobile e poi l'Inter, te saluto, vabbè regà, io per ora non so cos'altro dire, non mi viene in mente niente di riguardo la partita però, ah, ecco, cioè regà, ma vogliamo parlare di Orsato? vogliamo parlare di Orsato? cioè, ci avessi fischiato qualcosa, oh ci avessi fischiato qualcosa, Orsato, l'Immortacci tua cioè regà, oh, è incredibile, è incredibile non ci ha fischiato niente porco due cioè, Cristo Santissimo, no? e usano quel grandissimo fischietto c'era una punizione netta doveva munirlo, quello subito fuori l'area del rigore niente, non ha fischiato niente, niente vabbè, regà, vabbè, lasciamolo a perdere noi ci vediamo domani con la live reaction sempre Forza Razzi e Bella